Nei prossimi giorni la regione campagna continuerà ad essere interessata da condizioni di tempo instabile a tratti perturbato a causa del passaggio di due distinte perturbazioni provenienti dal nord atlantico. Perturbazioni precedute da correnti temperate seguite da aria relativamente fredda, per cui il campo termico oscillerà intorno ai valori medi stagionali con conseguente variazione della quota neve. E quanto ha scritto il meteorologo Giuseppe Stabile su Meteo7.it. Il meteorologo negli scorsi giorni ha con dettaglio previsto la quota neve e le condizioni di instabilità del tempo sul territorio del Vallo di Diano e del Cilento. Il primo fronte perturbato ha attraversato la regione nella giornata di oggi, determinando precipitazioni a prevalente carattere di rovescio, anche temporalesco, e nevicate in Appennino, inizialmente al di sopra dei 1200 metri, con limite in callo fin sotto ai 1000 metri nella serata. Domani, aggiunge Giuseppe Stabile, sarà presente una residua e stabilità con possibili precipitazioni in un contesto termico moderatamente freddo. Mercoledì poi una più intensa perturbazione, sempre proveniente dal nord atlantico, determinerà un nuovo peggioramento con precipitazioni diffuse. Le temperature subiranno un'ulteriore diminuzione, termina il meteorologo occidentano, con conseguente calo della quota neve, intorno ai 700-800 metri.